Ci troviamo nel piazzale dell'Esselunga di Masnago dove è in corso l'allestimento del punto vaccinale che dovrebbe essere pronto a partire da giovedì e accogliere i primi cittadini che devono vaccinarsi. Si tratta di una innovazione unica. Selunga ha partecipato a un bando regionale di Areu e in vari punti della regione ha messo a disposizione i propri spazi per installare delle linee vaccinali. In sottofondo sentite il rumore perché gli operai all'interno di questi due megabox stanno lavorando in questo momento per completare l'allestimento. Si tratta del piazzale alle spalle del grande parcheggio e dell'ingresso principale dell'Esselunga di Masnago.